Buongiorno, buongiorno, oggi è domenica 26 giugno, rassegna stampa in breve di video 33, nuovo appuntamento con la nostra informazione, cielo sereno dopo i temporali della notte appena passata, una suggestiva immagine che ci arriva da San Genesio e sulla conca che ospita la città di Bolzano, intervento dei vigili del fuoco nella tarda serata di ieri a Santa Maddalena in Val di Funes per un torrente che ha rischiato di esondare causa all'arrivo a valle di notevole materiale. Frannoso, in regia abbiamo Matteo Berto con il suo aiuto, diamo un'occhiata alle aperture dei quotidiani che troviamo oggi in Edicola all'Alto Adige, più medici ma non basterà il focus sul pronto soccorso dell'ospedale, l'appello del sindaco Caramaschi smuove l'ASL. Ieri sappiamo visita istituzionale del Presidente della Repubblica d'Austria Fischer a Bolzano, Fischer è andato anche al monumento La Vittoria, questa è la riconciliazione e la storia va spiegata. A Merano in pieno centro, finiti i lavori, Piazza Duomo diventa isola pedonale. La cronaca cura del Corriere dell'Alto Adige, Fischer così si supera la storia, il Presidente elogia il monumento, riforma costituzionale, Vienna tutelerà i sudtirolesi, lo hacker investe in Tirolo, la nuova fabbrica da 70 milioni di euro. Megastore Aspiag, il vice sindaco, esclude Frick. E ancora gli insetti parlano con le vibrazioni esperti a confronto, tutto questo per la tutela dell'ambiente e delle nostre culture. Come ogni domenica vi proponiamo la cronaca in lingua tedesca a cura del settimanale 7. In Edicola, al posto del Dolomiten, ci si occupa della visita, ultima visita istituzionale del Presidente Fischer in Alto Adige, l'arrivo in aeroporto, i dettagli sono raccontati all'interno, l'incontro con il Presidente Compaccer, il saluto ricevuto dagli Schützen e poi la visita al monumento alla vittoria. Sempre la ZET dedica spazio all'interno. Ad un'intervista al legale difensore di Schwazzer, l'avvocato Branstetter, riguardo le ultime novità sul presunto caso di doping, subito contestato, europea da 2016 in Val Pusteria. I dettagli di questa iniziativa è tutto, io vi ringrazio per aver scelto anche oggi l'informazione di Video33.